Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi facciamo, come previsto, un po' di correzione sui esercizi relativi al metodo dei fasci che abbiamo visto nella scorsa video-lezione. Come al solito ci basiamo sugli esercizi che avete mandato voi e cerco, come ho fatto ultimamente, di fare, magari di proporvi sia gli esercizi svolti magari da qualcuno della terza S sia da qualcuno della terza B. Premesso che naturalmente vorrei che ciascuna classe mi mandasse almeno una versione di tutti gli esercizi che vengono svolti, cosa che purtroppo non succede sempre. Iniziamo dal numero 245, pagina 379. Questo qui è quello fatto da Fabio. Allora, intanto faccio subito una piccola osservazione. Intanto dico subito che il procedimento è complessivamente corretto, c'è solo qualche piccola osservazione da fare. Alla prima osservazione, al solito, manca il grafico. Il grafico è una cosa che dobbiamo sempre fare. Magari lo fate con GeoGebra, non lo so. Se lo fate con GeoGebra è premesso che, di nuovo, bisogna saperlo fare anche a mano, ma piuttosto mandate anche un'immagine del grafico GeoGebra che avete realizzato. D'accordo? Magari vi faccio anche vedere come si fa. Oltre a fare uno screenshot che potete sempre fare, andate su File e fate Esporta. Potete esportare la vista grafici come figura, vedete per esempio. Potete anche fare delle cose diverse, per esempio GIF e altre cose più complicate che non vi interessano. Quindi, in alternativa allo screenshot che potete fare, sempre, ovviamente. Quindi, detto questo, vediamo l'esercizio. Il grafico, oltre a chiarire, naturalmente, a voi cosa magari si può fare e se quello che state facendo è corretto, aiuta anche gli altri a capire cosa state facendo, il vostro procedimento. Quindi, in questo esercizio c'era, il testo diceva di, si voleva determinare una circonferenza passante per tre punti, l'equazione di una circonferenza passante per tre punti. E questa, quindi questi tre punti qua, A, B e C, d'accordo? Una circonferenza passante per tre punti, naturalmente abbiamo visto diversi modi con cui si può trovare, in particolare, per esempio, impostando un sistema 3x3 oppure trovando il centro grazie al fatto che si trova sull'intersezione degli assi dei segmenti, per esempio A, C e B oppure A, B, B, C e così via. Un terzo modo consiste, appunto, nell'usare il metodo dei fasci. In questo caso, se vogliamo una circonferenza che passi per tre punti, possiamo, come abbiamo fatto nella video-lezione, 1. Generare un fascio passante per due dei tre punti considerati. E poi, in questo fascio di circonferenze, che tutte passano per quei punti, che sono i punti base del fascio, possiamo selezionare quella che passa anche per il terzo punto. Quindi, come abbiamo fatto, per esempio, nella video-lezione per il problema dell'epicentro del terremoto. Quindi, vediamo l'esercizio fatto da Fabio, come l'ha fatto. Allora, avete qui la piccola osservazione, una delle piccole osservazioni di cui dicevo è, cercate di spiegare bene il procedimento che seguite, d'accordo? Quindi lui parte in quarta facendo dei calcoli e non si capisce cosa sta facendo. Quindi, anche molto brevemente, scrivete, per esempio, una piccola strategia. Sto facendo questo, sto facendo questo, eccetera. D'accordo? Quindi qui Fabio sta cercando di applicare, appunto, quella strategia che dicevamo, cioè creare un fascio passante per due punti. E lui non l'ha scritto, ma dal suo procedimento si può dedurre che ha scelto come punti questi due, B e C. Quindi, quello che sta facendo è, trova la retta passante per questi due punti. Questa retta, sappiamo che è una circonferenza del genere del fascio passante per B e per C. D'accordo? Del fascio di circonferenze secanti. Ha bisogno, poi, di un'altra circonferenza e cercherà, lui ha cercato quella che ha centro nel punto medio di questi due punti e che passa, naturalmente, per quei punti. Quindi, lui ha usato queste due circonferenze, la retta BC che è del genere e la circonferenza passante per BC che ha a diametro proprio BC. E con queste due circonferenze ha generato il fascio e poi ha selezionato la circonferenza che passa per A. Quindi, questa è la strategia, che magari, appunto, sarebbe bello scrivere, almeno schematicamente, così tutto è più chiaro. Quindi, vediamo come ha fatto i calcoli. Allora, qui, uno ha trovato la retta, d'accordo? Quindi, questo è il coefficiente angolare della retta passante per BC. Ha usato ΔY e ΔX tra i due punti. E ha trovato il coefficiente angolare e, dopodiché, ha impostato l'equazione di una retta con un certo coefficiente angolare e, sostituendo uno dei punti, 2,6, ha trovato Q che è 5. E quindi ha trovato questa, che è l'equazione della retta BC, d'accordo? Che è la nostra prima circonferenza degenere, cioè la nostra unica circonferenza degenere del fascio, scusate, e sarà la nostra prima degeneratrice. Poi, ha trovato il centro e il raggio di quell'altra circonferenza, quella che dicevamo prima, che ha come diametro BC. E quindi, intanto ha calcolato la distanza fra quei due punti, che viene radice di 20, e poi ha diviso per 2 e ha trovato il raggio, d'accordo? Ora, qui c'è l'altra piccola osservazione che faccio notare. Questa qui è un'approssimazione, d'accordo? Esattamente come questa. E, di conseguenza, le equazioni, i risultati che uno ottiene sono necessariamente approssimati. Possono essere approssimati più o meno bene a seconda di quante cifre uno tiene in questa approssimazione. Però, dobbiamo essere coscienti che potrebbe essere ciò che sarà, non la soluzione esatta, per quanto ben approssimata. Quindi, di nuovo, il mio consiglio, che ho dato diverse volte, è, se è possibile, cioè se non ci crea troppe, troppe difficoltà, teniamo i valori esatti, d'accordo? Quindi, per esempio, teniamo la scrittura pi greco, anziché sostituirla con 3,14. Teniamo la scrittura radice 20, anziché sostituirla con 4,47, d'accordo? Perché queste sono approssimazioni. Se poi abbiamo esigenza di avere un valore approssimato e così via, che magari sia più chiaro, perché 4,47, magari c'è più chiaro qual è il suo valore che non radice 20, lo possiamo fare. Però, se vogliamo andare poi avanti nell'esercizio e usare quei valori, è meglio se ci teniamo i valori esatti di solito. Tra l'altro, radice di 20 si può anche riscrivere in maniera più semplice, come vediamo tra poco, nello svolgimento di un altro svolgimento di questo esercizio che ci è stato gentilmente fornito. Quindi, torniamo allo svolgimento. Qui ho trovato i punti medi, il punto medio del segmento, e ho trovato il centro, che è 8,1. E di nuovo, se abbiamo davanti una figura, diventa naturalmente facile vedere che è corretto, d'accordo? 8,1. Quindi, controlliamo anche questa retta, che intercetta 5, e così via. Vedete, controlliamo tutti i risultati che magari possiamo ottenere tramite i calcoli. Ok, qua, dopo di chi ha trovato il centro e il raggio, quindi si trova l'equazione della circonferenza con l'equazione solita, d'accordo? Sostituisce i valori e gli viene una cosa del genere. E vi faccio osservare che qui gli viene 4,97, d'accordo? Perché ha usato questo valore e lo ha elevato al quadrato. E vi faccio notare che se avesse usato questo al quadrato, sarebbe venuto 20 quarti, cioè 5. E questo è il valore esatto. Vedete che c'è una piccola differenza rispetto a questo. E vedete anche che, tra l'altro, 5 è più facile da usare nei calcoli, anche a mano, senza aver usato la calcolatrice, rispetto a 4,97, d'accordo? Quindi non è detto che tenerci valori esatti sia per forza una scomodità dal punto di vista dei conti, magari nel prosieguo può invece portarci a avere dei numeri più belli, tra virgolette. D'accordo? Quindi qui ha l'equazione della retta che aveva scritto prima e la riscrive in forma implicita, così come ha fatto con la circonferenza, perché ci ricordiamo che nel fascio bisogna introdurre il primo membro dell'equazione delle generatrici quando sono scritte in forma implicita. Quindi qua c'è primo membro della prima generatrice, di quello che lui ha scelto come prima generatrice, e qua primo membro di quello che lui ha scelto come seconda generatrice. Dopodiché, Quindi questa è l'equazione del fascio, se volete, d'accordo? A questo punto, se uno vuole la... nella circonferenza, che passi anche per l'altro punto. L'altro punto è A. Quindi qua, per esempio, uno potrebbe scrivere strategia, sostituisco A, e trovo la circonferenza, bla bla bla, e trovo la circonferenza che, oltre a passare per B e C, passa quindi anche per A. D'accordo? Quindi sostituisce, vedete, il punto A, che è 2,0, all'interno della circonferenza, all'interno, scusate, dell'equazione della generica circonferenza del fascio, e trova il valore di K. Di nuovo, vedete che gli viene un valore approssimativamente uguale a 4, mentre, se avesse fatto i conti esattamente, gli sarebbe venuto, appunto, esattamente uguale a 4. Il punto 32,03 fratto 8, non è esattamente 4, va bene? A questo punto, una volta trovato il valore di K, per trovare qual è l'equazione della circonferenza che corrisponde a questo valore di K, lo sostituisce di nuovo e trova l'equazione della circonferenza che, come vi faccio osservare di nuovo, è come quella che viene data al risultato del libro, ma qui c'è un valore leggermente diverso, proprio dovuto all'approssimazione che lui ha introdotto dall'inizio. D'accordo? Quindi questo, a parte le osservazioni che ho fatto, generalmente è un buon svolgimento. Faccio vedere anche l'altro esercizio, l'altro svolgimento è lo stesso tipo, perché è molto simile. Qui c'è qualche spiegazione in più, però. D'accordo? Quindi c'è, per esempio, intanto un disegno. Sono indicati i nomi dei punti a cui poi si fa riferimento nello svolgimento. Nell'altro, se vedevate, c'erano dei nomi di punti che però non si sa a cosa si riferissero, ho dovuto immaginarlo io sapendo com'era l'esercizio, d'accordo? Quindi dovrei cercare di essere più chiari possibile, immaginare di spiegarlo, non dico proprio a uno che non sappia nulla, ma non dare per scontato tutto quello che fate, d'accordo? Immaginando che poi chi legge debba per forza capire. Quindi abbiamo i tre punti, e di nuovo, anche qui, questo è Damiano, anche qui ha usato la stessa strategia di Fabio, d'accordo? Quindi ha scelto i punti B e C come punti base del fascio, e quindi ha trovato la retta passante per cui due punti l'ha messa in forma implicita, poi ha trovato la circonferenza che è a centro nel punto medio, e ha scritto la sua equazione, lui ha scelto di fare i calcoli e scriverla in forma canonica, cosa che non era strettamente necessaria, ma naturalmente si può tranquillamente fare, e osservate una piccola differenza rispetto a prima, che Damiano si è accorto che radice di 20, uno può portare fuori il 2 della radice, perché 20 è 4 per 5, e il 4 è il quadrato di 2, che quindi può essere portato fuori. E quindi, qua si semplifica, ci rimane R radice 5, con il risultato che nell'equazione qua ci rimane 5, di nuovo quel 5 che invece Fabio aveva scritto come 4, qualcosa, d'accordo? Quindi, trovate le equazioni delle generatrici, anche qui, poi il resto del procedimento è uguale, e scrive l'equazione del fascio, e poi impone il passaggio per il punto A, sostituendo, si trova K uguale 4, vedete come prima, e risostituendo K si trova l'equazione in circonferenza, questa volta proprio con 20, e non con 20 virgola qualcosa, perché Damiano ha usato i valori esatti. Però, come vedete, diciamo, c'era poca differenza nel valore approssimato, visto che era stato approssimato con un certo numero di cifre decimali. Ok, quindi questo conclude il primo esercizio. Allora, vediamo il secondo esercizio, che è un esercizio che forse avevo già dato in passato, da risolvere con i metodi che avevamo visto fino a questo momento, proprio per fare un confronto anche rispetto alla possibile utilità appunto del metodo dei fasci, rispetto magari a altri metodi che abbiamo usato. In particolare, il metodo dei fasci ci aiuta, in questo caso di tre punti... Ah no, scusate, c'è ancora un'osservazione che volevo fare prima di passare all'altro esercizio, che mi stavo già dimenticando. Allora, entrambi gli svolgimenti che sono stati mandati, che erano entrambi buoni, come ho detto, ma entrambi hanno scelto B e C come punti base del fascio, d'accordo? Questo, diciamo, è una scelta possibile e non poi in realtà particolarmente difficile, però vedete che, insomma, per trovare sia la retta, la prima degenere, sia l'equazione della circonferenza, ci sono un po' di calcoli, d'accordo, da fare, naturalmente. Un'altra idea possibile, diciamo, sempre, in tutti i casi dovete fare questo, però anche quando usate il metodo dei fasci, può essere utile, se avete più opzioni a disposizione, cercare quella più comoda, d'accordo? Quindi, in questo caso, ci sono due punti che sono più facili di B e C per trovare le due circonferenze da usare come generatrici del fascio. E se vedete, possiamo, se avessimo scelto, in questa figura si chiamano A e C, come due punti base del nostro fascio, e poi con cui generarlo, e poi avessimo imposto alla fine il passaggio per B, vedete che qui, la prima degenere, sarebbe la retta passante per i due punti. E la sua equazione è semplicissima, perché è l'asse X, quindi Y uguale a zero. E poi abbiamo la circonferenza, dobbiamo trovare un'altra circonferenza passante per A e C, di nuovo, una facile, è quella che ha centro nel punto medio e A e C come diametro. Quindi, usando questo come punto medio, questo si legge direttamente alla grafica, comunque è molto facile trovare eventualmente anche la sua espressione, se vogliamo farlo con i conti, d'accordo? e quindi il raggio immediatamente lo troviamo come 6 meno 2, che è 4. E di conseguenza, vedete che abbiamo subito trovato l'equazione anche della seconda generatrice, più Y al quadrato, perché la coordinata del centro è zero, uguale a 16, che è il raggio al quadrato. Quindi vedete che con pochissimi conti, o comunque con conti molto più semplici, abbiamo trovato le nostre due generatrice, quindi il fascio, nello scriveremo in questo caso, come X meno 6 alla seconda, più Y alla seconda, meno 16, uguale, e scusateci ancora, la seconda, più KY, che è l'unica cosa da mettere per la seconda generatrice, uguale a zero. Quindi questa è l'equazione del fascio, quindi come vedete il più è fatto, a questo punto basta sostituire il punto B questa volta, naturalmente, perché è il terzo punto, quindi troviamo la circonferenza di questo fascio, che sarà un fascio di circonferenze secanti A e C, e possiamo sostituire il punto B e troviamo il valore di K e poi l'equazione della circonferenza, che quindi passa per A e per C e anche per B. Quindi è una scelta, premesso che anche gli altri due svolgimenti andavano bene, una scelta più intelligente, diciamo più intelligente, più oculata forse, dei punti da usare, e delle circonferenze da usare come generatrice del nostro fascio, può portarci a risparmiare dei conti, cosa che fa sempre piacere, ed è utile particolarmente quando avete verifiche, esami, o cose del genere, in cui il tempo anche gioca una variabile, gioca un ruolo molto importante. Il tempo è anche la vostra stanchezza, perché se faccio due pagine di conti per fare un esercizio che invece ne richiedeva di meno, naturalmente ho sprecato l'energia mentale necessaria per magari poi fare altre cose, quindi tempo ma anche energia. ok, quindi questo conclude veramente l'analisi del primo esercizio, e volevo quindi passare all'altro, l'altro esercizio, quindi volevo esaminare questo, che l'ha mandato Giada. Quindi in questo esercizio, il test 280 era determinare l'equazione di una circonferenza che abbia certe caratteristiche, e vedete qua, quindi qua, in questo svolgimento, non avrò bisogno di scrivere quasi niente, perché Giada, anche se schematicamente, ha scritto tutto ciò che è necessario. Quindi vogliamo trovare una circonferenza che abbia delle determinate caratteristiche, cioè che sia tangente alla circonferenza in un punto che ha come ascissa meno 2 e naturalmente l'ordinata da determinare, perché si dice tangente alla circonferenza nel punto di ascissa meno 2, non si dice quale è l'ordinata, quindi la dobbiamo trovare. Quindi la strategia, se volete una cosetta che poteva aggiungere anche lei per scritto, era di nuovo un piccolo riassunto della strategia, quindi il metodo dei fasci, come lo usiamo per risolvere questo problema? vogliamo trovare una circonferenza che abbia delle caratteristiche, cioè che sia tangente a una certa retta in un certo punto e passi per p e quindi naturalmente questo si può fare in diverse maniere, ma un modo per farlo è usare il metodo dei fasci e il metodo dei fasci presuppone che troviamo, determiniamo un fascio di circonferenze magari che abbiano una delle caratteristiche fornite e poi di questo fascio selezioniamo quella che ha anche l'altra caratteristica e quindi in questo modo determiniamo la circonferenza richiesta. In questo caso, Giada ha determinato il fascio di circonferenze che siano tangenti alla retta data in un certo punto e poi di tutte queste circonferenze naturalmente tangenti a questa retta in quel punto uno può selezionare quella che passa proprio per il punto p richiesto e quindi questa circonferenza qui sarebbe la circonferenza del fascio che poi risolve il nostro problema, d'accordo? C'è chi soddisfa a tutte le richieste. Quindi vediamo come è fatto. Allora, intanto per scrivere il fascio di circonferenze tangenti alla circonferenza bisogna usare di nuovo due circonferenze del fascio. Le circonferenze più facili abbiamo detto sono quelle dei generi. In un fascio di circonferenze tangenti le due rette, le due scusate, circonferenze dei generi appunto ce ne sono due e una è la retta tangente che rappresenta l'asse radicale del fascio e l'altro è il punto di tangenza che rappresenta una circonferenza del genere di raggio zero. Quindi, intanto per prima cosa trova, se vedete, il valore della y del punto di tangenza sostituendolo all'interno dell'espressione della retta. Quindi questo è il punto di tangenza che ha coordinate meno 2, 1 che è questo punto. Ora, quindi questa è la nostra prima circonferenza del genere. L'altra circonferenza del genere come vedete è il punto B che è una circonferenza del genere con raggio zero e che quindi corrisponde ad un punto per correre la sua equazione ce la scriviamo così come quella di una circonferenza appunto ma con raggio zero che è soddisfatta appunto solo dal punto B come dicevamo. E dopodiché ha sviluppato i calcoli e l'ha riscritta in forma canonica che è questa qua evidenziata in giallo. Dopodiché una volta che ha le due equazioni delle circonferenze sia pur dei generi genera il fascio con queste due sommandole col k come al solito e per trovare la circonferenza di questo fascio che passa per P sostituisce come vedete qua scritto le coordinate del punto P appunto e quindi sostituendo si trova che rimane k da determinare grazie a questa equazione e vedete facendo i calcoli viene k uguale meno 2. Infine per trovare l'equazione di circonferenza come al solito che corrisponde a questo valore di k la risostituiamo il valore di k all'interno della generica equazione del fascio d'accordo? E quindi rimettendoci quel valore e facendo i calcoli si trova quindi vedete che qui ci mette meno 2 che è il valore di k svolge i calcoli e si trova l'equazione della circonferenza richiesta d'accordo? Quindi come vedete il metodo dei fasci in questo caso in particolare nel caso delle condizioni di tangenza secondo me è particolarmente utile nel senso che le condizioni di tangenza come vi ricordate sono un po' rompiscatole quindi a volte dobbiamo per esempio dobbiamo usare un metodo di mettere a sistema poi delta uguale a 0 oppure imporre distanza punto retta uguale a raggio diciamo che possono non essere condizioni a volte semplici o comode da applicare con i conti mentre qui in realtà come vedete non c'è molto c'è la determinazione di una retta determinazione di una circonferenza del genere e poi in pratica sostituzione di valori come calcoli quindi sono tutti calcoli secondo me non difficili e che possono essere appunto più facili che non per esempio applicando altri metodi tra quelli che abbiamo visto quindi questo è un caso in cui può essere particolarmente indicato se volete usare il metodo dei fasci ok quindi questo per quanto riguarda il secondo esercizio volevo far vedere anche questo che di nuovo l'ha mandato Damiano questo l'aveva mandato diciamo prima di richiedere diciamo era una versione preliminare dell'esercizio quindi lui mi aveva mandato per richiedere alcuni alcuni suggerimenti perché appunto non gli veniva quello che pensavo che dovesse venire quindi in realtà penso che poi l'abbia corretto però siccome non è più arrivata non sono più arrivate altre versioni vi faccio solo vedere questo perché magari può essere utile per capire un possibile errore quindi è molto utile vedere anche possibili errori oltre che oltre che come si deve fare correttamente d'accordo quindi anzi non so se vi ho già detto faccio una piccola parentese visto che queste videozioni tendono ad essere un pochino secche rispetto a quello che faccio magari in classe sono pochi aneddoti poche osservazioni poco tutto a parte veramente lo svolgimento degli esercizi o insomma le spiegazioni vi dico questo quindi se non volete sentire questa spiegazione saltatevi un paio di minuti e poi riprendo gli esercizi però se avevo letto un piccolo libretto di neuroscienze applicate all'insegnamento in cui si diceva che il nostro cervello reagisce positivamente a alle cose che funzionano come si aspettava d'accordo e reagisce naturalmente negativamente con dei segnali di allerta diciamo così quando invece ci sono cose che non ci aspettavamo quindi se facciamo una cosa e tutto funziona come magari ha fatto Giada o sembra che abbia fatto Giada perché magari invece in brutta o pensandoci eccetera com'è perfettamente normale uno magari fa tentativi cerca poi sbaglia poi rifà e così via è perfettamente normale lo fanno tutti quelli che fanno che affrontano dei problemi di matematica o di fisica e io in prima persona d'accordo quindi dai più bravi ai meno bravi tutti sbagliano tutti provano tutti cercano strade eccetera il procedimento è molto simile per tutti noi non pensiate che ci sia qualcuno che guarda i problemi e li risolve così schioccando le dita sono veramente pochi quelli che fanno così se ci sono dicevo i segnali di allerta i segnali positivi che avvengono quando facciamo qualcosa che torna con le nostre aspettative sono però in un certo senso meno forti di quelli che otteniamo quando abbiamo facciamo degli errori o delle cose che non ci aspettavamo quindi il nostro cervello in pratica reagisce molto più fortemente quando c'è qualcosa che non va perché chiaramente dovreste reagire fortemente ogni volta anche quando c'è qualcosa che va bene saremmo sempre in stato di continua allerta e invece quando le cose funzionano come ci aspettiamo ok è contento ma fino a un certo punto nel senso che è la normalità in un certo senso quando invece qualcosa che non va si attiva tutto un sistema insomma che adesso io non mi ricordo e comunque non saprei probabilmente spiegare bene a livello insomma di sostanze che vengono liberate nel nostro corpo al nostro cervello e che in sostanza stimolano questa ricerca di cosa non va come facciamo per capire come si fa d'accordo quindi questa e diceva che questa cosa questo processo è particolarmente utile nell'apprendimento perché questa cosa qui fissa in buona sostanza determinate cose quindi quando noi poi riusciamo ad aggiustare quella cosa che non andava il nostro cervello è molto più contento cioè libera molte più sostanze positive tra virgolette ora sto dicendo delle cose biologicamente che probabilmente fanno vomitare però il senso è corretto d'accordo quindi libera delle sostanze che ci danno che gli fanno capire in buona sostanza che la cosa è estremamente positiva d'accordo molto di più che non quando abbiamo fatto tutto e tutto è andato secondo i piani d'accordo quindi dal punto di vista di apprendimento è più formativo per il vostro cervello in un certo senso quando a volte sbagliate qualcosa e poi ci pensate poi capite cosa c'era di sbagliato e trovate la soluzione riuscite a fare giusto che non quando tutto funziona bene paradossalmente d'accordo? quindi il segreto per diventare sempre più bravi è naturalmente fare cose sempre più difficili perché così ci scontriamo ogni volta contro qualche cosa che non va o che dobbiamo capire o che non sappiamo come funziona e possiamo poi dare quando finalmente ce la facciamo quella soddisfazione al nostro cervello quindi quella sensazione secondo me che uno prova e io provo spesso e probabilmente molti di voi se non tutti avete provato quando finalmente trovate l'errore o finalmente l'esercizio viene come deve avvenire o finalmente trovate la soluzione un indovinello un problema qualsiasi cosa è proprio quello di cui sto parlando secondo me quindi è proprio quello che poi ci stimola a continuare a fare questo tipo di attività perché in realtà diventa piacevole provare quella sensazione chiaro che invece uno per farlo deve superare però quella sensazione negativa che ha provato quando le cose non funzionavano d'accordo se uno invece si ferma a quella non trova ormai la sensazione positiva di aver risolto il problema e quindi il suo cervello in realtà impara molto meno e lui prova senz'altro molto meno piacere e soddisfazione nel fare quella determinata attività quindi fatta questa questa digressione così che però secondo me è utile perché noi siamo qui tutto il giorno a cercare di imparare e quindi è utile sapere come funziona come funzioniamo come funziona questa nostra macchina meravigliosa perché così possiamo magari convincerla a imparare meglio a usare strategie che la fanno imparare meglio e capiamo anche meglio insomma le nostre emozioni la frustrazione la felicità e così via applicate naturalmente a questo contesto va bene basta quindi ricominciamo con il nostro con i nostri esercizi quindi quello che volevo dire appunto far notare un errore che ho fatto qua nel procedimento l'impostazione era era sensata nel senso che anche qui Damiana ha cercato intanto ha preso una delle circonferenze del genere e poi però ha preso la circonferenza l'altra circonferenza del genere che dovrebbe essere un punto l'ha presa nel punto A vedete meno 2,0 sarebbe questa il punto A non è il punto da usare non è il punto da usare perché noi vogliamo generare il fascio di circonferenze che siano tangenti a questa retta in un punto d'accordo? quindi devono essere tangenti a retta in un certo punto quindi quello che nell'altro svolgimento già deve indicato come punto B ok? quindi questo è il punto da considerare perché se noi usiamo il punto B e la retta come circonferenze degenerare i generatrici del fascio allora generiamo un fascio di circonferenze che sono effettivamente tangenti a questa retta in B e sono tutte tangenti tra loro quindi se vi ricordate se andate a rivedervi se non vi ricordate i vari tipi di fasce di circonferenze con le loro circonferenze degenere ciascuno quello di circonferenze tangenti aveva due degeneri che erano appunto una retta e un punto giacente sulla retta invece se io prendo una circonferenze invece c'era poi l'altro tipo di fascio quello di circonferenze tutte che senza punti in comune tra loro che aveva tre degeneri e erano due punti e una retta d'accordo? poi c'era quello di circonferenze secanti che ha solamente scusate che ha due punti e una retta no scusate cosa dico ha solamente una retta e i punti sono punti base quindi stavo facendo lo stesso errore che volevo correggere quindi ha solamente una retta che è quella passante per due punti base che non sono circonferenze degenere i punti base sono un'altra cosa e infine mancano ancora le concentriche che hanno solamente il punto centrale come circonferenze degenere quindi queste cose le avevamo già dette questo è solo un ripasso quindi se non vi ricordate queste cose sono essenziali perché altrimenti non potete neanche impostare il metodo dei fasci o lo impostate in maniera sbagliata quindi qui vogliamo impostare delle circonferenze che siano tangenti e quindi devo usare questo perché se uso per esempio qui Damiano avrebbe usato questa retta e per esempio questo punto come circonferenze generatrici del fascio il risultato potete provare a farlo con GeoGebra per esempio è che si generano delle circonferenze esterne d'accordo cioè circonferenze voglio dire senza punti in comune tutte le une con le altre va bene proviamo magari a farcelo con GeoGebra d'accordo cerco di farlo velocemente per non fare di nuovo un video di 6 ore però proviamo proviamo a farlo d'accordo avevamo la retta che era x meno 2y più 4 d'accordo quindi abbiamo x meno 2y più 4 uguale a 0 quindi questa qui è la retta d'accordo che è una delle generatrici ora proviamo a scrivere l'altra l'equazione della della circonferenza che adesso ho perso che dovrebbe essere allora era va bene era quella passante per questo punto d'accordo cioè scusate era la circonferenza del genere che era questo punto qui in quella nella versione corretta diciamo così dovrebbe essere x più 2 alla seconda più y meno 1 alla seconda uguale a 0 e vedete che mi crea un puntino queste sono le nostre due generatrici d'accordo? poi voglio creare il fascio con queste due quindi mi ricopio questa qui devo sommarci cancellare qua sommo k per l'altra che è x meno 2y più 4 x meno 2y più 4 tutto uguale a 0 creiamo lo slider e questo è il nostro fascio d'accordo? vedete che sono tutte circonferenze tangenti d'accordo? e ritroviamo che per k uguale a meno 2 abbiamo la circonferenza che passa per quel punto d'accordo? quindi ci verifichiamo oltre a visualizzare il fascio grazie a GeoGebra molto bene vediamo che insomma verifichiamo anche il nostro risultato va bene? ora supponete di voler cambiare questo punto e ci mettiamo un punto sbagliato quindi mettiamo come generatrice il punto che abbiamo messo primo questo punto qua d'accordo? e dobbiamo cambiarlo anche qua nel fascio quindi ci tolgo questo quando generiamo il nostro fascio vedete vengono delle circonferenze esterne vediamo un fascio di circonferenze per alcuni valori k come ci ricordiamo non ce ne sono e poi ricompare dall'altra parte questa qui sarebbe l'altra degenere vedete che non era una generatrice ce ne sono solo due generatrici tre degeneri quindi non possono essere tutte generatrici che però ritroviamo come una delle circonferenze del fascio per certi valori di k non c'è nulla e poi ricompare di là quindi bene spero di aver illustrato anche graficamente quello che volevo dire ok allora vediamo vediamo l'ultimo esercizio allora l'ultimo esercizio non l'ho amato nessuno quindi volevo invitarvi a mandare tutti gli esercizi d'accordo? o se no alternativamente a mandare domande su come si facevano perché una delle due sono solo queste due alternative non si può non fare nessuna domanda e però nessuno manda gli esercizi perché sennò vuol dire che uno non ha provato a farli quindi se provate a farli ma non riuscite in maniera sufficiente buonmente buona secondo voi da inviarli allora fatemi qualche domanda perché è molto utile perché io magari riesco a darvi una risposta in tempo in tempo utile e voi riuscite poi a proseguire a fare l'esercizio mentre invece se vedete solo la correzione adesso che farò io comunque di nuovo è molto meno utile molto meno formativo è più comodo perché ve la guardate anziché doverla chiedere a fare domande capire eccetera però quello che è più comodo raramente insegna di più molto spesso insegna di meno quindi l'esercizio che dicevo era quello che vi avevo di cui vi avevo scritto il testo io era questo ci sono due circonferenze e si chiede di trovare una circonferenza che abbia che passi per i punti intersezione di altre due circonferenze date e che abbia centro su una retta data e c'era un suggerimento che chiedeva è proprio necessario suggerimento bar domandina diciamo è proprio necessario determinare i punti di intersezione quindi i punti di intersezione tra due circonferenze in questo caso non erano particolarmente difficili però sapete che uno deve risolvere un sistema ci mette magari del tempo e così via se non è necessario forse appunto è meglio non farlo quindi vediamo un attimo come come si potrebbe fare quindi ricopio un attimo le due equazioni quindi x alla seconda più y alla seconda meno 4y meno 1 quindi abbiamo x alla seconda più y alla seconda meno 4y meno 1 uguale a 0 questo è gamma 1 e poi abbiamo gamma 2 x alla seconda più y alla seconda uguale a 4 ora queste due circonferenze sono date e poi è data la retta magari chiamiamola retta retta t che è r magari ci confondiamo con il raggio x più y più 1 uguale a 0 quindi questa è la retta sulla quale deve giacere il centro della circonferenza che cerchiamo quindi quello che potremmo fare naturalmente se non avessimo a disposizione i fasci di circonferenze è intanto troviamo i punti intersezione di queste due circonferenze poi cerchiamo di trovare una retta una circonferenza scusate che passi per quei due punti magari potremmo farlo sostituendo i due punti e inoltre dobbiamo in qualche modo aggiungere il requisito che il suo centro stia su questa retta cosa che magari appunto non è così facile da fare invece appunto di nuovo il suggerimento era provare a usare il metodo dei fasci e con questo vedere se effettivamente è necessario passare attraverso la determinazione di due punti oppure no intanto una cosa che possiamo sicuramente fare come al solito è disegnarci queste due circonferenze in questo esercizio non erano particolarmente complicate anzi erano un caso abbastanza semplice perché le due circonferenze stavano avevano entrambe centro sull'asse y questo si vede abbastanza velocemente nel senso che questa è la classica forma della circonferenza con centro nell'origine che abbiamo imparato a riconoscere e questa come vediamo il coefficiente della x è 0 non c'è il termine in x c'è solo il termine x alla seconda e quindi la coordinata x del centro sappiamo è 0 e ciò significa che il centro anche qui starà sull'asse y a riconoscere detto questo possiamo trovarci centro e raggio di entrambe qui si fa immediatamente centro origine e raggio 2 e qui possiamo trovare anche qui centro e raggio d'accordo quello che troviamo io ho fatto il grafico qua con GeoGebra quindi questa blu è x alla seconda più y alla seconda vuole 4 e l'altra se ci facciamo i calcoli possiamo ricondurci a questa forma e quindi troviamo che ha centro in y uguale a 2 x uguale a 0 e raggio 5 d'accordo e quindi avete una circonferenza del genere e qui in arancione ho scritto l'equazione della retta che viene data quindi noi dobbiamo trovare una circonferenza che diciamo abbia centro su questa retta e passi per i due punti intersezione quindi con questa figura appunto una strategia potrebbe essere il centro vedo che se deve passare per questi due punti dovrà esserci appunto una simmetria e quindi il centro dovrà essere sull'asse y e poi se deve essere su questa retta dovrà essere in questo punto meno 1 0 scusate 0-1 e a quel punto potrei trovare questi punti intersezione e trovare la circonferenza che ha questo centro e quel determinato raggio questa potrebbe essere una strategia però proviamo a usare invece i fasci di circonferenze come potremmo usarli in questo caso allora la circonferenza cercata ha la caratteristica una delle caratteristiche richieste è appunto deve passare per i punti intersezione di queste due d'accordo? noi sappiamo che se noi generiamo un fascio con queste due e queste due appunto hanno certi punti intersezione i punti intersezione delle due generatrici sono i punti base del fascio quindi tutte le circonferenze del fascio passeranno per i punti intersezione tra queste due quindi se io genero un fascio con queste due ogni circonferenza del fascio senza altro passa per i punti base cioè i punti di intersezione tra gamma 1 e gamma 2 che sono che è quindi uno dei requisiti che noi vogliamo dopodiché c'è una seconda parte dell'esercizio che è determinare quale tra le circonferenze del fascio ha questa ulteriore caratteristica di avere il centro su quella retta va bene? quindi questa può essere la seconda difficoltà nel nostro caso non era una difficoltà grande perché la figura ci aiutava in modo particolare però posso anche farvi vedere come si potrebbe fare se non avessimo questa facilitazione quindi solamente con i calcoli vedere come si poteva impostare senza usare particolarmente il fatto che siamo facilitati da una figura non troppo complicata in questo caso quindi intanto generiamo il fascio che è la prima parte del nostro problema e dopodiché vediamo come risolvere la seconda parte però la prima parte in pratica l'abbiamo già fatta quindi una volta che abbiamo capito questa parte di strategia questa è l'equazione del fascio ormai dovremmo essere in grado di farla occhi chiusi quindi possiamo riscrivercela magari in forma canonica e quindi se facciamo i calcoli ci viene 1 più k x alla seconda più 1 più k y alla seconda poi ci rimane meno 4y e meno 4k meno 1 uguale a 0 e a questo punto se k è diverso da meno 1 se è uguale troviamo il l'asse radicale se invece è diverso possiamo scrivere effettivamente l'equazione in forma canonica così potrei mettere il meno davanti e scrivere 4k più 1 fratto 1 più k uguale a 0 e quindi questa è la nostra equazione del fascio e qua ci manca una y in forma canonica d'accordo? quindi il coefficiente a è 0 il coefficiente b è questo e il coefficiente c è questo ok, a questo punto come facciamo a imporre che il centro stia su questa retta allora ci sono due modi il primo modo ve lo dico a voce è questo troviamo il centro delle due generatrici in questo caso è in questo caso abbiamo detto sono l'origine e il punto 0-2 troviamo l'asse centrale in questo caso è facile perché è l'asse y e poi troviamo l'intersezione fra l'asse centrale e la retta che vogliamo su cui vogliamo che stia al centro della circonferenza desiderata e questo punto è meno 1 facilmente quindi a questo punto abbiamo trovato il centro ora per trovare a quale valore di k corrisponde questa cosa noi possiamo ricavare le coordinate del centro da questa espressione queste coordinate saranno delle naturalmente dipenderanno da k per la scuola di k cambiano le coordinate del centro e poi possiamo imporre che siano uguali alle coordinate del centro richiesto quindi la coordinata del centro x è 0 sempre per ogni valore di k ma possiamo richiedere che la coordinata y sia uguale a a meno 1 e quindi risolvendo l'equazione troveremo il valore di k richiesto che l'altra strategia che in realtà è analoga cioè diciamo è la stessa cosa messa in un'altra salsa è questa troviamo xc e yc perché se il centro appartiene alla retta t che era data da questa equazione x più y più 1 uguale a 0 e se qui mi sono accorto che nel testo avevo scritto solo x più y più 1 senza uguale a 0 spero che non diciamo siccome nessuno mi ha chiesto niente spero che tutti abbiate capito cosa voleva dire ma nel caso insomma chiedete io sono sempre disponibile o quasi sempre a rispondere quindi abbiamo dicevamo se il centro deve appartenere a questa retta alla retta che ha questa equazione vuol dire che le sue coordinate devono soddisfare questa equazione quindi vuol dire che deve essere xc più yc più 1 uguale a 0 naturalmente ora sostituisco qui dentro le coordinate del centro che posso ricavare dall'espressione del fascio quindi io so che xc è 0 perché a è 0 e yc è meno b fratto 2 b dipenderà da k quindi mi viene più perché qui c'è meno dividendo per 2 il numeratore diventa 2 e rimane 1 più k e quindi sostituiamo queste nell'equazione voglio che queste soddisfino l'equazione della retta perché devono stare anche su questa retta e quindi abbiamo 0 più 2 fratto 1 più k più 1 uguale a 0 e quindi ritroviamo un'equazione che mi permette di determinare k quindi ricapitolando prima di risolverla so che le coordinate del centro devono soddisfare anche questa equazione perché sto cercando quella particolare circonferenza al cui centro appartiene a questa retta e so che le coordinate del centro in generale per qualunque circonferenza del fascio devono avere questa espressione quindi le coordinate del centro hanno questa espressione se la circonferenza appartiene al fascio e se il centro appartiene alla retta allora devono anche soddisfare questa quindi mettendo insieme le due cose abbiamo impostato un'equazione che ci permette di trovare k quindi qui faccio il denominatore comune e mi rimane più 1 più k uguale a 0 quindi 3 più k fratto 1 più k uguale a 0 e questo è uguale a 0 se il numeratore è 0 perché sappiamo insomma che il denominatore non è 0 almeno nel caso di una circonferenza non degenere e quindi 3 più k uguale a 0 notare se il denominatore fosse 0 non verrebbe 0 verrebbe una cosa che non esiste quindi k uguale a meno 3 e al solito se voglio l'equazione risostituisco qui dentro e quindi mi rimane x alla seconda più y alla seconda meno 4 fratto 1 meno 3 quindi così e poi mi rimane meno 4k più 1 quindi qua devo mettere meno 3 quindi 4 per meno 3 che fa meno 12 più 1 quindi meno 11 e qua viene 1 meno 3 quindi meno 2 uguale a 0 e quindi l'equazione in definitiva viene più 2y meno 11 mezzi uguale a 0 devo aver sbagliato qualche calcolo è giusto è giusto verificato con GeoGebra quindi qua ci viene qui ho scritto le due circonferenze come prima abbiamo detto poi ho generato il fascio allo stesso modo di come ho fatto con altri e voglio solo farlo comparire eccolo qua quindi questo è il fascio di circonferenza che abbiamo generato quindi come vedete sono tutte circonferenze che passano per i due punti base delle circonferenze da cui eravamo partiti che sono questi due punti qua e che come vedete di qui non abbiamo determinato le coordinate perché non ce n'è stato bisogno d'accordo e con k uguale a meno 3 dovremmo ottenere la circonferenza che volevamo cioè quella di raggio scusate quella con centro nel punto A d'accordo quindi per verificare che sia quella ho creato ho fatto una circonferenza ve la rifaccio consigliamola faccio una circonferenza che abbia come centro A e passi per B e vedete che otteniamo proprio quella circonferenza con k uguale a meno 3 quindi una verifica del nostro calcolo tra l'altro qui ci crea poi l'equazione che possiamo riesprimere in quest'altra forma e quindi possiamo verificare i nostri calcoli quindi x al secondo più y al secondo più 2y uguale a 11 mezzi che è esattamente quella che ho scritto io prima perché basta portare di là 11 mezzi va bene quindi direi che questo conclude la correzione quindi come diciamo da nostra tabella di marcia non facciamo niente di nuovo e per la prossima volta vi lascio ancora vedere un paio di esercizi su questo metodo dei fasci o anche sulle circonferenze in generale perché non mi sembra che almeno nei due esercizi che avete mandato non mi sembra che ci siano stati particolari problemi sul metodo dei fasci e la prossima volta magari vediamo ancora l'ultima cosetta che però è importante da vedere sulle circonferenze d'accordo? quindi state bene e buon lavoro buona vita per quanto possibile e ci sentiamo domani per video di fisica e oggi se volete sul gruppo ciao a tutti alla prossima